Mali, Somalia, Centroafrica, ma anche Afghanistan per le vie del centro storico, i Decumani, di Napoli, sfila un corteo silenzioso fatto di volti, colori e cartelli. È la fiaccolata silenziosa appunto promossa dalla comunità di Sant'Egidio, dall'ufficio pace e salvaguardia del creato dell'Arcidiocesi di Napoli e da associazioni e movimenti laicali. Aprire l'anno con fede, con speranza, ma anche ricordando che nel nostro mondo esistono almeno 17 conflitti ancora aperti. In Siria, nel Sud Sudan, in Medio Oriente, per fare degli esempi, senza dimenticare le stragi di cattolici in Nigeria o le vittime infinite in Iraq. Situazioni di violenza che non possono e non devono finire nel dimenticatoio, anche nel mondo occidentale. Del resto, la Chiesa stessa ha scelto la Fraternità come fondamento e via della pace, come tema della giornata che alla pace appunto è dedicata. Simbolica anche la scelta di far sfilare una croce speciale, ottenuta dal legno delle barche naufragate nel Mediterraneo. Un segno per ricordare la tragedia dei tanti naufraghi che hanno perso la vita durante il viaggio per cercare un futuro migliore, come quelli di Lampedusa. In testa al corteo Don Tonino Palmese. C'è già terra di Soltanati.